Di calcio d'estate si tratta, ma i faccina rosi non vanno in vacanza. All'esterno dello stadio Franco-Ossolo, dove si è disputato il match amichevole-Varese-Catania, si sono registrati piccoli tafferugli tra i tifosi delle due squadre che sono stati bloccati solo dall'intervento dei carabinieri. Un tifoso siciliano è stato ferito in maniera lieve e se l'è cavata con alcuni punti di sutura. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di tifosi del Varese ha aggredito i supporter Etnei perché due anni fa, in occasione di un match di Coppa Italia, agli ultravaresini fu impedito di esporre uno striscione nello stadio del Catania. 15 tifosi Etnei sono stati accompagnati in questura, sono ancora in corso identificazioni dei supporter varesini. Adesso è il match. Il Catania nella sesta amichevole precampionato pareggia 2-2 al novantesimo contro l'ex formazione del suo tecnico, dimostrando di essere squadra che non si arrende mai anche nel precampionato. Continuano gli esperimenti di Rolando Maran, che non ha rinunciato al turnover e al 4-3-3, e ha optato nuovamente per Anduar dal primo minuto per sostituirlo poi nel secondo tempo con Frison. In difesa ad agire sulla destra è stato arretrato Iziko, con spoglie e le grottaglie al centro, mentre al Varese è stato provato a sinistra. In mezzo a viaggianti Taxidis e Almiron, mentre in avanti con Berghessio, terminale offensivo, spazio a Barrientos e Ducarà. Le belle sorprese, nonostante la sconfitta, sono arrivate da Iziko, apparso già in forma campionato, e Taxidis, che continua ad impressionare per la facilità con la quale si è inserito negli schemi di Maran. E poi lui sempre il Pitu, che continua con destrezza e fantasia tattica a sfornare magici lanci per i suoi compagni, come nel caso del gol del 1-0, siglato poi dal collega Ducarà. Il pareggio del Varese arriva con Momente, che trova il tempo giusto e batte Frison. Il gol del 2-1 dei padroni di casa è di Damonte, dopo una mischia in aria. E Chieco poi con un gran gol a riportare il risultato in parità, 2-2, primo pareggio nel precampionato per i Rossoazzurri. Forse la stanchezza si è fatta sentire in maniera eccessiva, ed il Catania, che a tratti è apparso poco lucido, ha pagato il prezzo delle fatiche di questi giorni. Gli Etnei potranno rifarsi già sabato, è in programma infatti allo stadio Nespoli di Olbia, con inizio alle ore 21, l'amichevole precampionato contro il Cagliari la settima. Grazie a tutti.